come va playboy della nave come andate che playboy tutto bene tutto bene ieri zero gentil sesso avvistamento niente ho beccato una parlato 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 la fin un sacco che è saurita come lato si sa cosa che saurita saurita perché che te ne fai cioè voglio dire quando c'è l'opportunità uno è capito non è a noi che le diciamo queste cose no però come se ti sto a dire da esperto di playbologia diciamo che non ce l'hai fatto perché tu ecco il carattere tuo negativo perché le donne non sono tutte uguali cioè quella è più facile dove tu devi stare dietro devi seminare ho capito cercare col dialogo di intraprendere un discorso diciamo io sono andato a fondo la classe non è acqua che dell'acqua che è la classe ma ti dico che era saurita chi è questa presunta donna è quella la quella che sta col bicchiere in mano di arangiata che sta di particolare sopra quella è saurita è saurita e tu che si saurita vieni con me ti faccio vedere perché me lo devi far vedere tu come si fa si parte dal discorso la lista passeggerio stiamo facendo un accertamento sai capito che cosa non c'è cosa vediamo che cosa si capisce fa fa fare vieni 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 buongiorno aio comandante aio che sto pari salve salve tutto bene grazie ma lei è italiana è certo che sono italiana ecco il presunto playboy della nave aio mi fa passare la mente aio aio ci dalla sardegna viene lì eh sarda sono vediamo allora abbiamo un polma che viene dalla sardegna eia eia che mi fa che qui hanno caricato pure il polma si è tutto insieme e chi è quel ball di croco eeeh sardegna simpatico sei capitano spuntano la luna dal mondo e spuntano la luna dal mondo eeeh tanzegna tanzegna allora vediamo nome nome allora il cognome come si cognomali eeeh eeeh si comincia a conoscere la persona ah si un itinerario non è che dice che eeeh 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 ci sono diverse eeeh come si chiama il nome eeeh rita eeeh 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 Sì, è il suo ringo. È tutto il suo ringo. È il suo ringo.